È stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Padova l'agricoltore di 41 anni che ieri pomeriggio è rimasto gravemente ferito in un incidente all'interno di un'azienda agricola di Piombino Dese. L'uomo stava operando su una macchina per la preparazione del mais quando, per motivi al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal, è rimasto incastrato con una gamba tra gli ingranaggi. Immediato soccorso di alcuni colleghi che hanno avvisato il 118. Il personale del SUEM, giunto sul posto, ha subito chiesto l'intervento dell'elicottero. Il 41enne, attualmente ricoverato in prognosi riservata, l'uomo non è in pericolo di vita.